Ciao, mi chiamo Enrico Galiano e ho scritto un libro che si intitola La società segreta dei salva parole. Cosa succederebbe se un ragazzino di 12 anni si svegliasse improvvisamente in un mondo in cui giorno dopo giorno spariscono tutte le parole e contemporaneamente i grandi, gli adulti, i genitori, i professori diventano tutti strani, grigi, arrabbiati, frustrati, tristi. Le due cose sono collegate e Samu, il nostro protagonista, deve scoprire perché, deve scoprire cosa sta succedendo, perché spariscono le parole e cosa gli sta pigliando a sti grandi. Una specie di giallo in cui il nostro Samu verrà aiutato dalla mitica nonna Squi, non sta naturalmente per nonna squisita ma è un po' squilibrata, ecco, e i suoi vari amici fra cui il Talpa, poi c'è Nico, poi c'è Rachele e un misterioso uccello che è metà corvo, metà pappagallo, che è un pappacorvo di nome Gianfilippo. Ecco, tutti insieme dovranno salvare le parole, ci riusciranno, non ci riusciranno, non lo so, non te lo posso dire, non lo so, se lo sapessi te lo direi, ma non te lo posso dire, quindi non lo so. La società segreta dei Salva Parole, buona lettura. Ciao.